Allora, rieccoci insieme. Per chi si fosse appena sintonizzato con noi, ripresento i nostri illustri ospiti qui presenti. Il professor Stefano Allievi, docente di sociologia all'Università di Padova. Grazie di essere con noi. Buonasera. Dottor Gianangelo Bellati, esperto di dinamiche europee. Luca Piero Bon, sindaco di Cittadella, espermente della Lega. Buonasera. E il dottor Francesco Pontelli, economista. Buonasera. Allora, come avevo pronunciato, adesso incominciamo subito. Io vorrei cominciare con lei questa volta, professore, e quindi leggetto la patata mollente, visto che lei ha fatto anche degli approfondimenti al riguardo, poi ha scritto anche dei libri. Nuovi populismi che si stanno manifestando in modo molto importante, lo abbiamo visto, vanno in qualche modo a ridisegnare equilibri europei. Secondo lei cosa sta succedendo? Qui le chiedo un parere un po' come sociologo, perché questo è anche un aspetto importante. Dopo andremo a vedere su degli aspetti economici, politici, eccetera. Però vorrei, da questo rispetto qua. Io credo che la principale cosa che sta succedendo è che non si parla di cose che stanno succedendo. Cioè, si stanno ridisegnando gli equilibri, non solo dei rapporti con l'Europa, di quello parliamo, ma dei rapporti con la Russia, con gli Stati Uniti. Noi siamo un paese atlantico, atlantista, filoatlantico da sempre. La stessa costruzione dell'Unione Europea ha un rapporto con gli Stati Uniti che è privilegiato, diciamo, da fratello maggiore a fratello minore, per certi aspetti. Oggi queste cose si stanno ridiscutendo completamente. Pensiamo al ruolo della Russia, pensiamo all'idea di una presunta alleanza con Putin, con alcune specificità, spesso più dichiarata che praticata. Però tutto questo, nell'assenza di un dibattito pubblico sul tema, l'Italia tradizionalmente ha sempre parlato poco di politica estera, però qua c'è veramente un ridisegno, il ridisegno principale dai tempi delle costruzioni dell'Italia repubblicana e degli assetti europei successivi a secondo me. C'è un momento epocale questo, non c'è così? Sì, io credo che per esempio il rapporto con la Russia, appunto, tradizionalmente il mondo slavo è un altro mondo rispetto al mondo europeo occidentale e lo vediamo con le difficoltà che ci sono con i paesi slavi dell'Europa, che sono entrati nell'Unione Europea, che oggi sono un polo all'opposizione della stessa Unione Europea in cui sono entrati. C'è un rapporto con la Russia che viene caratterizzato all'inizio, anche con giustificazioni economiche, le sanzioni, sempre dimenticando che quelle che fanno davvero male non sono le sanzioni che sono state poste alla Russia, ma le controsanzioni che la Russia ha dotato contro l'Europa, quelle lì fanno effettivamente male ad alcuni settori dell'economia del nord-est, per esempio, ma con la scusa di quelle ci sono delle, come dire, delle dichiarazioni d'amore assolutamente inaspettate, insospettate nei confronti di un mondo che non è la Russia, è un modo di governare, è un autocrate, è un governo totalitario quello russo. Quindi è rischioso, le dice c'è un pericolo? Beh, non è certamente il modello democratico europeo e men che meno quello americano a cui ci siamo ispirati in tutta la nostra storia passata. Quanto meno sarebbe utile ridiscutere invece che farlo in silenzio, in qualche modo ipotizzando nuovi tipi di alleanze, sostituzioni addirittura, ci comprano loro il nostro debito e poi non lo faranno perché non lo possono fare, perché non hanno nemmeno i soldi, però un po' sì, qualche cosa di simbolico possono sempre fare o quantomeno dichiarare e in cambio di queste poche dichiarazioni e quasi niente di efficacia economica, noi ridiscutiamo un intero progetto che è di civilizzazione, non è di alleanze, è chi siamo noi? Le democrazie occidentali, il mondo liberale o siamo più vicini ai totalitarismi di tipo slavo? A me sembra una domanda effettivamente rilevante e mi inquieta un po' che venga fatto anche a livello governativo con una certa faciloneria e probabilmente da uno solo dei due soci del contratto di governo attuale perché l'altro socio, il Movimento 5 Stelle, non ha alcuna consapevolezza di quello che sta succedendo lì e semmai a qualche pulsione, anche quella non tradizionalmente filo occidentale, di simpatia verso qualche regime latino americano che neanche quello è proprio un ideale di democrazia. Può essere una strategia per scardinare perché alla fine, alla matrice di tutto, è un'insofferenza per un'Europa che non ha soddisfatto. Perché è sacrosanta, nel senso che l'idea di scardinare degli equilibri attuali, di come funziona o disfunziona un pezzo dell'Europa, perché è un pezzo, non è che la costruzione europea non sta funzionando. Io insegno all'università, se chiedo ai miei studenti se sta funzionando o meno, loro pensando all'Erasmus sono entusiasti. Infatti bravissimo, ha fatto un'osservazione interessante, è vero, perché per i giovani, soprattutto appunto di una certa fascia, l'Europa funziona, la vedono sotto un'ottica diversa. Ecco appunto, allora lì bisogna vedere, ma gli stessi imprenditori, alcuni toccati magari anche pesantemente dalle attuali sanzioni nei confronti della Russia, che però nell'export del nord-est, e Veneto in particolare, esportano essenzialmente in mercati di economie liberali e di società democratiche, gli altri paesi, l'Europa occidentale, la Germania ci compra molta più roba di quanto ce ne potrà mai comprare qualunque paese slavo-Russia inclusa, per dire uno. Ebbè, io credo che anche il mondo imprenditoriale sarebbe molto scettico in uno slittamento di alleanze, anche solo a discuterlo questo slittamento di alleanze, anche se c'è il fascino, ahimè, della personalità forte. Ma ribadisco sempre che la personalità forte, nel caso di Putin, è anche una personalità totalitaria, è uno che controlla, come dire, la stampa in maniera rigida, che controlla l'economia, come dire, per i suoi interessi, anche personali, in maniera rigida. Sarei un attimo inquieto sull'idea che sia un modello simpaticamente da approcciare, così come se non ci fosse differenza. Allora dice, l'Europa è una roba, siccome con l'Europa abbiamo dei problemi adesso va bene la Russia, al momento l'Europa occidentale, l'Unione Europea e la Russia, rappresentano due modelli di civilizzazione, due idee di libertà e due idee di democracia completamente diverse. Giannangelo Bellati, da questo punto di vista? Sì, effettivamente è così. Noi non ci siamo ancora resi conto, quando è caduto il muro di Berlino, della portata della caduta del muro di Berlino, che non è stato solamente, non so se vi ricordate, l'invasione di persone che erano bloccate dai muri, dai recinti, dai fili spinati, dai mitra automatici che impedivano il passaggio da una parte all'altra del mondo dell'est e del mondo dell'ovest. Ma quello era successo in quel momento, dopo piano piano lì le cose si sono risolte, le frontiere si sono aperte, molti paesi sono entrati, ricordiamo il grande allargamento con una decina di paesi che sono entrati all'interno dell'Unione Europea con culture e mentalità diverse ed è proprio qui il punto che il professore stava, secondo me, mettendo particolarmente in evidenza che stiamo parlando di due mondi che erano assolutamente quasi all'opposto anche nella gestione dell'economia sulla quale io mi vorrei un attimino adesso concentrare, per cui hanno avuto anche dei problemi di adattamento, l'esempio un attimino più chiaro di tutti forse perché si è svolto in una maniera ancora più trasparente è stata l'unificazione della Germania, anche quello è stato un fenomeno interessantissimo, attuato però in maniera, anche se ancora in corso, in maniera molto intelligente dalla parte occidentale perché se noi guardiamo come lo hanno fatto è esattamente l'opposto di come noi vogliamo risolvere i problemi, tanto per darci un esempio del meridione, la differenza di ricchezza fra meridione e settentrione rimane sempre alta, i problemi sono sempre gli stessi, anzi peggiorano più i soldi vanno giù, lì no perché lì i soldi non venivano dati per assistenzialismo ma venivano dati alla Germania dell'Est soprattutto per investimenti in modo tale che il denaro comunque portava un utile a tutto il sistema paese, sia a chi investiva sia a chi riceveva gli investimenti. Una metodica di approccio anche economica completamente diversa. Poi che cosa succede? Che però tutte quelle economie lì per parlare più della parte economica non erano in grado e non sono in grado nemmeno oggi, anche per questa cultura diciamo che era una cultura anche comunista che indipendentemente dal fatto slava o non slava, non erano in grado e non sono ancora oggi sempre in grado di produrre tanto quanto riusciamo a produrre con la mentalità nostra la cultura più proiettata verso il capitalismo che abbiamo nell'Occidente. Quindi c'è anche un aspetto economico che però ci porta ad avvicinarci a loro perché se io guardo quei mercati in particolare mi viene in mente sempre la Russia, ma caspita noi abbiamo una marea di imprese che producono prodotti che loro non hanno e nello stesso tempo loro hanno risorse naturali che noi non abbiamo in quella portata, tutto il gas che arriva da lì, tutti questi condotte, questi tubi che vogliono, è la dimostrazione, quindi c'è una complementarietà, quindi io sono d'accordo che ci sono due errori sostanziali secondo me, il primo errore è quello che l'Europa così come oggi non funziona più, però nessuno, e su questo possiamo parlarne, ha presentato una proposta alternativa, io ce l'ho in mente, ma io sono io, ma chi ha il dovere, i governi di presentare una proposta di Europa alternativa, a cominciare dal nostro governo, non l'ha ancora fatta. La seconda cosa, oltre che questa, è che effettivamente il mondo quello che si è adesso aperto sta superando quella forma diciamo di totalitarismo, di dittatura, ovviamente non è facile, ci vogliono generazioni, no? Ed è un mondo che è complementare al nostro e quindi noi dobbiamo ragionare in termini possibilmente di un'Europa che non sia più un'Europa per forza solamente legata al mondo occidentale, perché ci sono interessi economici che molte volte ci spingono invece che verso l'Atlantico, ci spingono proprio verso la Russia, è anche un po' la storia che ci ha portate tantissime volte a guardare verso Oriente, per Oriente intendo anche una parte della Russia, oltre che evidentemente la Cina. Guardiamo la Cina che cosa ha combinato con l'entrata, fra l'altro, sancita l'entrata nella VTO, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, è stata una rivoluzione, una cosa che stiamo vivendo ancora oggi. Allora ci sono degli interessi economici che ci portano a dialogare con quelle realtà, perché? Perché ci conviene, perché questo porta occupazione, porta lavoro. In termini di peso è imparagonabile, però il nostro export rispetto all'Europa occidentale, rispetto agli Stati Uniti, rispetto alla Cina, rispetto alle potenze emergenti, rispetto all'Africa, rispetto all'America Latina, ce ne sono tanti altri interlocutori in un mondo multitudineale, globale, anche meno antipatici, diciamo così, della Russia dal punto di vista principale. Più della metà del nostro export va verso l'Europa, grazie alla comunità economica europea, che è sempre messa sul banco degli imputati, ma noi dobbiamo guardare anche i trend, qui abbiamo un altro economista, e i trend sono di un costante aumento, sempre che non nascono delle sanzioni, delle cose, per cui in un mondo in crisi tu cerchi ovunque di trovare sfogo per i tuoi prodotti. Quello che secondo me è importante è che noi europei, dividendoci, alla fine non torniamo a diventare le vittime di questa lotta fra giganti che c'è intorno a noi, perché ci stiamo solo Stati Uniti e Cina, se ci disuniamo, se non siamo uniti, ognuno guarda i propri egoismi, noi diventiamo più poveri di quello che siamo oggi o eravamo ieri. Per cui l'Europa unita non è una scelta. Un passaggio chiaro. Dopo le dà la parola al sindaco, perché mi piacerebbe appunto che lei avesse più la parte politica, a parte che può dare anche un'opinione anche tecnica, perché vive in un territorio dove aziende che hanno l'export in questi territori, che vivono di export, aziende anche di non poco peso, ci sono assolutamente, per cui anche un ruolo diciamo istituzionale di un certo peso economico. Però volevo sentire che lei si facesse un po' anche le idee, sentendo anche un economista che cosa ne pensa, perché anche lei ha approfondito questo tema nelle sue analisi dei mercati, no? Ma il problema è molto complesso, io sono d'accordo con entrambi, quanto hanno detto loro. Il problema è in questione di modelli. Noi abbiamo come modello l'Ungheria, che è il terzo paese che ha più basso livello di stipendi in Europa. Perché come modello dice l'Ungheria? Perché hanno preso il modello Orban, Ungheria, come modello per quanto riguarda la crescita da una propria moneta, cito Borghi e Bargnai. Il problema essenzialmente è questo, e giustamente bisogna vedere i trend. L'ingresso della Cina nel WTO è stato quello che ha rivoluzionato sicuramente il mondo americano, il mondo del commercio internazionale. Però non dobbiamo dimenticarci che l'unica, assieme alla Cina, l'unica economia che cresce veramente è quella americana, statunitense. Non dobbiamo dimenticarci che gli Stati Uniti hanno fatto una scelta molto precisa, molto chiara, l'hanno confermata questa mattina, attraverso le sanzioni contro l'Iran. Stati Uniti che hanno creato un'asse, Stati Uniti, primo produttore al mondo di petrolio, Arabia Saudita, primo Stato per riserve petrolifere al mondo, e Russia, non dimentichiamoci che questo terzetto sta lavorando contro l'OPEC per abbassare il livello del petrolio, perché essendo gli Stati Uniti consumatori, oltre che produttori, hanno una certa convenienza di lasciarlo tra i 55 e i 65 dollari. E questo dimostra essenzialmente come le altre potenze economiche non ragionano solo, giustamente, dell'export che noi abbiamo, che rappresenta la nostra valvola di sfogo, però ricordiamoci che l'export è calato dal 7,4%, nell'ultima rivelazione da un caldo del 7,4%, e l'unico che cresce a fatalità è il nord-est, che ha un più 2,4%. Quindi c'è una differenza di trend di quasi 10 punti percentuali, cioè noi siamo un mondo a parte. Il nord-est, rispetto anche all'economia nazionale, è un mondo a parte che va da solo. Però è evidente che in un contesto internazionale, Zaya o il nord-est o le associazioni di categoria del Veneto possono far poco, se non entriamo anche noi attraverso l'Unione Europea, in queste dinamiche che sono economiche e politiche. È evidente che però se noi cominciamo a dire il deficit me lo compra Putin quando lui nello statuto del loro fondo privato possono comprare solo titoli a tripla A. Noi siamo un gradino sopra la spazzatura, per cui noi non possiamo neanche comprarlo. Noi stiamo purtroppo a livello politico, vale sia di qua, vale sia per la maggioranza del governo, quanto per la maggioranza dell'opposizione, noi non abbiamo modelli economici e politici. viviamo alla giornata, faccio un esempio banale, la Cina, che non è anche quella della democrazia, però il nostro concorrente economico, sta avarando dei piani economici a 30-40 anni. Ah sì, infatti. Noi facciamo dei piani a 3, forse 6 mesi, perché primo le capacità di chi gestisce l'economia in Italia ha una visione forse a 3-6 mesi, forse, di quelli che sono al governo adesso. Però ci costringono anche ad averla questa agitata qua, perché le visioni di più lungo periodo... Però le visioni di più lungo periodo devi per forza intervenire in ambito europeo, devi trovarti di piani europei. Però è evidente che se vuoi entrare nel campionato di Serie A, non puoi andare tu a dettare le regole, devi accettare le regole del campionato. Invece noi siamo quelli che veniamo dalla B, finiamo in campionato europeo, e vogliamo anche dire, no, però guarda, le regole del bilancio te le faccio io, perché se no vado torno a giocare in Russia. Non è che così che funziona, non è che così si faccia politica economica, e che soprattutto si assicuri un futuro alle prossime generazioni, perché alla fine noi dovremmo ragionare in prospettiva dei prossimi anni, non dei prossimi mesi. Perché adesso l'ottica tanto delle partite al governo quanto dell'opposizione sono le europee del prossimo anno. Ho capito? E noi siamo in stagfrazione, cosa facciamo allora? Noi abbiamo avuto l'ultima rilevazione trimestrale del PIL, è zero. Zero vuol dire che siamo fermi. L'inflazione è tendenziale, è 0,8 di tutto l'anno, fonte confi d'industria. Questo cosa vuol dire? Che tanto quanto questi sono adesso, quanto quelli prima, gentiloni, che avevano sparato un più 1,4, che era una cifra folle, hanno sbagliato completamente. E noi non possiamo ragionare sperando che riprenda con le... Noi stiamo esportando, ma sono gli altri che non esportano più. Noi, Triveneto, rappresentiamo una parte importante, ma una parte piccola. Secondo fattore. Noi ragioniamo in prospettiva. E le banche? Questo è un altro capitolo. Adesso porteremo anche l'aspetto banche, che sarà rilevante. Non tiriamo purtroppo... No, no. ...cosa al fuoco, perché sennò non riusciamo poi a venirne a capo, ma ci sono diverse questioni. Sindaco, lei come la vede? Dal punto di vista politico, poi, perché qui sono stati tirati in ballo... Il ragionamento è... E la Lega come... No, il ragionamento è complicato. ...che alternativa vede l'Europa. È complicato perché comunque si parte dalle radici storiche di come è nata l'Italia dopo il post-secondo conflitto mondiale. Stanno cambiando sicuramente le prospettive. Io più di una modifica di, diciamo, partner, la vedo più come un allargamento dei partner, perché, a parte le scaramucce, diciamo, che ci possono essere a livello europeo dettato più che altro da problematiche politiche, partitiche, è più un allargamento che, secondo me, l'Italia ha bisogno di questo allargamento. Si parlava delle sanzioni della Russia, il professore diceva bene che sono state le controstanzioni quelle che hanno fatto male. Il nostro settore agroalimentare, in particolar modo quello dell'autofrutta, è stato massacrato dalle sanzioni della Russia. Ma aziende che lavoravano sui mobili di alto pregio, idem, alcune hanno chiuso. Quindi, per quanto piccolo possa essere, piccolo, in termini relativi, possa essere il mercato russo, è comunque un mercato che determinati prodotti italiani li riceveva in maniera cospicua. E aziende, soprattutto del nord-est, ne hanno risentito in maniera tragica. Quindi, diciamo che io condivido che la nostra logica è una logica di breve periodo. Ma è sempre stata così. Sempre stata. L'Italia non ha mai fatto piani pluriennali. Ma, riportando la cosa nel piccolo, nel mio comune, la stessa programmazione di bilancio di un comune cambia più volte durante l'anno a causa della normativa nazionale. Io mi ricordo 4-5 anni fa che abbiamo dovuto addirittura il termine di approvazione del bilancio previsionare del comune aveva stato spostato a novembre dell'anno in corso. Per fare un esempio a chi ci ascolta a casa, è come una famiglia che deve programmare le spese di un anno, però non sa quanti soldi entreranno se non a novembre, cioè ad un mese dal termine dell'anno. E questo impedisce di fare un qualsiasi tipo di programmazione anche a livello comunale. e nel piccolo il comune può influire sull'economia. Un altro piccolo esempio relativo al comune di Cittadella. Il comune di Cittadella ha 8 milioni e qualcosa su un conto corrente che il buon Monti si è portato, in termini spiccioli è, si è portato a Roma, si è portato a Roma impedendo ai comuni quel famoso patto di stabilità poi modificato negli anni di andarli a spendere. Quelli sono soldi che un comune che non è in deficit, che un comune che ha delle entrate che sono superiori alle uscite dovrebbe poter gestire. Quelli sono soldi pubblici che un comune potrebbe investire, investire come? In opere pubbliche per esempio, creando economia, creando economia nel territorio. Però cosa lei ha citato, ha fatto un esempio concreto, pratico, tutta una tesoreria dello Stato per intenderci. Tutta una tesoreria, ha un bellissimo tasso zero. O almeno era nella tesoreria dello Stato perché quindi sono stati utilizzati. Lo Stato si finanzia con i soldi dei comuni, tenendo conto che il debito dei comuni è il 2% a livello statale. Quindi quando fanno queste grandissime manovre di tagli nei confronti dei comuni che poi il 2% a livello pubblico si fa capire che tagliare sul 2% vuol dire che tagliava nulla. Perché c'è un'influenza pari a zero, no? Certo, ma questa... Lei ha fatto un esempio concreto. Adesso che poi la Lega e il Governo con 5 Stelle, Paripat, però insomma comunque sono al Governo, agire su questi gradini su sollecitazione... È fondamentale. Perché non viene fatto... Perché poi il cittadino dice... Ma... Come? Chiedete di abolirlo. Io sono favorevole. Sono d'accordo con lei. Io ho già... Il fatto di stabilità è stato un obiettivo polemico della Lega come di Renzi, come di tanti altri. Come giusto che sia perché è un problema serio per i comuni. Già il Governo Renzi bisogna... Già il Governo Renzi comunque ha fatto una modifica, no? Perché il fatto di stabilità che prima era un po' assurdo per spiegare sempre in termini molto semplici perché chi ci capisce da casa, chi ci ascolta da casa magari fa un po' fatica perché sono termini complicati. Però il fatto di stabilità prevedeva che un comune doveva avere un tot di entrate per arrivare a zero. Dopodiché doveva avere delle ulteriori entrate, per esempio il Comune di Cittadella a 1.500.000 euro per poi poter cominciare a spendere oltre quella cifra. Quindi praticamente i comuni erano ingessati. Il Governo Renzi comunque ha qualcosa modificato, ha permesso appunto questo confronto tra entrate e uscite e infatti io vedo nel mio comune le opere pubbliche sono ripartite. Quindi è fondamentale che il Governo metta mani, metta mani, ma penso che ce l'abbiano ben chiaro. Io ho visto, sentivo un'intervista del mio concittadino, ex sindaco di Cittadella, Bitonci, che parlava di 85 miliardi di opere pubbliche ferme in Italia. E questo è un dato impressionante. Come si fanno a sbloccare se non lo fa il Governo adesso? È il Governo che deve sbloccarle. Sì, sì. Ma è chiarissimo che il Governo dovrà fare decreti, tutto quello che può fare, per riuscire a sbloccare 85 miliardi di investimenti in un paese. È un volano, è un volano. Adesso non è che voglio richiamare Keynes, però la spesa pubblica, chiunque può dire che serve. Serve comunque per creare occupazione, serve comunque per creare economia. noi siamo in un momento di crisi, fondamentalmente una crisi da domanda. E quindi è logico che dando l'opportunità alla gente di poter avere denari in tasca, si riesce probabilmente a creare un piccolo volano. Ecco, adesso... Nel breve, nel breve, nel breve, è difficilissima questa cosa da fare. Sono cose che probabilmente ci vorranno anni per vedere un risultato. Lei, Dottor Pontelli, proprio su questo aspetto ha parlato di una nuova svolta economica. citava partorire la nuova teoria economica in base alla quale risulta sufficiente creare una nuova spesa pubblica improduttiva per generare il nuovo PIL. Cito. Io sono d'accordo con lui in linea e in principio, anche se sulla spesa pubblica posso essere d'accordo in parte, nel senso che lui ha ragione, il sindaco assolutamente ha ragione, però non dobbiamo dimenticare che comunque le aziende sono cambiate. Le aziende, non è che un'azienda vince un appalto, assume 100 operai e va a fare il lavoro. L'azienda assume un appalto, dà i lavori alle varie aziende, dopo entrano subentrano le cooperative e alla fine in strada ci vanno gli extracomunitari e di cui un terzo del loro misero stipendio finisce in rimesse nei paesi d'origine e sostanzialmente di aumento occupazionale non è che ce ne sia così comunque, però è evidente che la spesa pubblica comunque è un volano. Il problema è che però questo governo, io sono d'accordo, ha fatto esattamente il contrario, ha trasferito 4 miliardi e mezzo di spese in conto capitale che sono quelli appunto i lampioni, le strade, i ponti, li ha portati alla spesa pubblica. Non è che sia l'unico, intendiamo, perfettamente in linea con il trend degli ultimi 20 anni. Sono 20 anni che dicono diminuiamo la spesa pubblica corrente, sono 20 anni che aumentano la spesa pubblica corrente. Quest'anno è aumentata di 4 miliardi e 300 milioni. Ma aumenta il PIR questo? Ma assolutamente no. Sono solo innaffiare il proprio orticello elettorale attraverso dei finanziamenti o Piozzo o attraverso Assunzioni, la creazione dell'Investitalia da 25 milioni senza... Perché non si sa neanche dove sia finita. Esatto, per cui... Su questo concorda lei professore Gianangelo Bellati? Come la vedete su questo aspetto? Questo stravolgimento? Intanto collocherei lo scenario interno rispetto a quello estero così ritorniamo anche alla discussione di prima. Intanto il problema dell'allargamento se diceva allarghiamo i mercati ma i mercati sono allargati da soli grazie agli imprenditori non è certo stato né Salvini né Gentiloni prima né Renzi prima ancora né Monti eccetera che hanno prodotto il fatto che si esporta in altri paesi gli imprenditori fanno da soli e infatti gli imprenditori hanno capito benissimo che il problema anzi l'opportunità non il problema è di allargare ulteriormente oggi c'è chi italiani disinveste dalla Cina e apre in Africa di cui noi diamo sempre questa immagine pauperistica ci sono zone dell'Africa che crescono a due cifre due cifre vuol dire più del 10% molte altre al 2 3 4 5 cioè hanno dei tassi di sviluppo che noi ci sogniamo e che ci sogneremo per molto tempo e quindi si investe non è un problema però di cambiare le alleanze politiche strategiche che è questo che mi inquieta appunto i mercati fanno da soli e fanno abbastanza bene il loro mestiere gli imprenditori si cercano i clienti in Cina in Russia in Europa in Africa in Asia perché noi dimentichiamo che la grossa crescita della popolazione dei redditi eccetera avviene altrove dall'Europa le nuove classi medie centinaia e centinaia di milioni di persone stanno in Asia stanno in Africa stanno altrove e quindi i mercati vanno lì va benissimo da lì a dire non ci piace l'Unione Europea per motivi anche seri ma concordo non proponiamo nessuna riforma ci stanno sulle balle a prescindere e ci alleiamo e diciamo che c'è simpatico Putin che con cui per esempio non è una zona di mercato libero con Putin lavorano gli amici di Putin che fanno arricchire Putin e i suoi amici se no non lavori in Russia allora capiamoci sono modelli o l'Ungheria che si citava prima o altri no non lo sono e dovremmo avere il coraggio di dirlo allora se il problema è creare spazi per per i nostri mercati bene basta andare a parlare con Confidus ha le idee abbastanza chiare con Concommercio pure un po' meno per motivi diciamo di ciò di cui si occupa perché è più orientata all'interno e si fanno le missioni con gli imprenditori e si creano come dire dei supporti ai mercati che vuol dire però aumentare la spesa che favorisce il lavoro la produzione di lavoro in questo paese e anche l'esportazione poi di merci e così via ma si fa facendo così non dicendo ma improvvisamente quello lì quello lì intendo Putin è un modello ci ispiriamo ma siamo matti ma siamo matti ma io in una scuola posso dire che Putin in una scuola occidentale posso dire che Putin è un modello chiaro nel dato sulla parola dottor Bellati appunto se dietro ci può essere anche a vedere una strategia di più lungo periodo un po' una questione anche più che economica anche di strategie politiche visto gli equilibri che si stanno riconfigurando anche in Europa con il discorso della Merkel eccetera subito la parola dopo la pubblicità tra poco grazie